Riuscire ad avere un piano di assistenza per la signora Maria e per il signor Mario, un piano digitalizzato, un piano integrato e coordinato. Tutto questo oggi ancora non è possibile, ma dal confronto di esperienze, di saperi e di competenze abbiamo provato a cercare una possibile soluzione, quella innanzitutto di coordinare, di coordinare quelle che sono oggi risposte separate, frammentate e mai portate a un denominatore comune, che per noi prevale nella centralità della persona, un denominatore che vuol dire concorrere a mettere la persona al centro e offrire ai suoi bisogni delle risposte integrate attraverso il digitale. Tutto questo naturalmente non è facile, richiede la possibilità di unificare il formato dei dati, necessità di mettere strumenti di facile utilizzabilità a disposizione delle persone, richiede il contributo di tante discipline e professionalità diverse, che noi però confidiamo possano convergere nella costruzione finalmente di un piano per ogni singola persona, per ogni singolo cittadino, che significa poi poter avere accesso alle migliori cure e alle cure più appropriate.